Ciao! Io sono Anna, sono una degli animatori di Cooperativa Pandora ed eccoci al nostro terzo appuntamento con la lettura di un albo illustrato per ricordarci di passare del tempo di qualità insieme a casa. Oggi abbiamo scelto un albo illustrato per la fascia dei piccolissimi. L'albo in questione è O.O. di Chris Horton che nel 2013 ha vinto il primo Anderson per la fascia di lettura zero sei. E' molto bello e ce lo leggiamo insieme. O.O. 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 O.O.O. Tutto bene, chiede lo scoiattolo. Mi sono perso, dice il bufetto. Dov'è la mia mamma? Non preoccuparti piccolo, vedrai che la troveremo. Com'è fatta la tua mamma? La mia mamma è grande, grandissima, così risponde il bufetto. Ok, ok, ho capito, ho capito, dice lo scoiattolo. Seguimi. Eccola, eccola la tua mamma. No, no, risponde il bufetto. Questa non è la mia mamma. La mia mamma ha le orecchie a punta, così. Ok, ok, ho capito, ho capito, dice lo scoiattolo. Seguimi. Eccola, eccola la tua mamma. No, no, risponde il bufetto. Questa non è la mia mamma. La mia mamma ha gli occhi grandi, così. Ok, ok, ho capito, ho capito, dice lo scoiattolo. Seguimi. Eccola, ecco la tua mamma. No, risponde il bufetto. Neanche questa è la mia mamma. Aspetta un attimo, dice la rana. Io conosco la tua mamma. Seguimi. La tua mamma ti sta cercando dappertutto. È questa la tua mamma. Sì, sì, eccola, è lei, è la mia mamma. Oh, grazie, dice mamma gufo. Perché non venite nel nostro nido a mangiare i biscotti? Con piacere, risponde lo scoiattolo. Adoriamo i biscotti. Oh, oh. Bene, speriamo che questo piccolo e breve albo illustrato vi sia piaciuto e che lo possiate utilizzare con i vostri piccolissimi a casa. Grazie dell'attenzione, ci vediamo al prossimo contenuto di Cooperativa Pandora. Ciao! Ciao!